Nella suggestiva cornice del Museo della Radio e della Televisione della RAI di Torino si è svolto l'incontro per il rinnovo del protocollo d'intesa Teleintendo Logos 2013. Si tratta di un'iniziativa che dà attuazione a livello regionale a un piano nazionale di formazione con l'obiettivo di valorizzare l'utilizzo di linguaggi espressivi e digitali nelle scuole dei diversi ordini e gradi, fornendo nuove competenze e nuovi strumenti di orientamento per educazione multimediale. Il rinnovo del protocollo d'intesa è sottoscritto dal Core con Piemonte, la RAI, Università di Torino, la Rete regionale delle scuole aderenti a Teleintendo Logos e ITER Città di Torino, Istituto Torinese per un'educazione responsabile.